ciao a tutti i ragazzi follower e anche a coloro che stanno comunque seguendo casualmente il video di del canale traduzione canzoni musica spiegata e oggi andiamo in questa puntata a parlare di un po di di metal perché ogni tanto ci vuole ragazzi è un po di metal ci vuole e la canzone che diciamo da a detta di molti ha aperto il proprio le porte al metal e anche avendo significato abbastanza importante a livello sociale perché comunque tutte le canzoni hanno un significato tutte anche la più banale comunque sta trattando un'emozione attraverso il cantante che è esce fuori attraverso la voce e quindi questa canzone è pronto si può definire una delle dei padri del del metal che appunto è di dei metallica che avre anche la porta appunto al grande palcoscenico dei metallica e il testo che andiamo ad analizzare oggi si intitola master of puppets che è uscito il 2 luglio del 1986 master of puppets che significa maestro dei burattini il tema appunto di master of puppets è la dipendenza dalla droga una tematica considerata tabù a quei tempi stiamo parlando della seconda metà degli anni 80 appunto a tempi della pubblicazione dell'alba e per questo affrontato attraverso una similitudine per far capire tra spacciatore padrone maestro chiamato qua e tossico burattino appunto puppet che vuol dire burattino il testo appunto nasce dalla rabbia l'emozione principale che ha dato origine alla band è una visione del mondo che non lascia scampo ci sono un sacco di cose brutte che succedono là fuori e nonostante tutti gli sforzi che puoi fare per non vedere ogni giorno ti ci devi confrontare ricorrente anche il tema del maestro burattinaio che tira i tuoi fili contorce la tua mente e distruggi i tuoi sogni sia la dipendenza dalle sostanze dall'alcol master of puppets parla di come certe sostanze finiscano per controllare te mentre tutti sei convinto di controllare loro e sotto ogni rispetto un bravo indimenticabile l'iconico riff d'apertura ha una struttura essenziale e orecchiabile anche da chi non è metallaro alcuni la considerano la canzone che ha aperto le porte del mondo ai metallica altri ha lo stesso genere a genere metal mentre il grande pubblico la considera un classico sempre verde che tutti dovrebbero ascoltare una volta nella vita e quindi andiamo ad analizzare il testo che significa appunto master of puppets maestro dei burattini inizia dicendo and of passion play crumbling away allora tu crumble vuol dire sbriciolare sgretolarsi quindi fine del gioco della passione che si che si sta sgretolando via il gioco della passione si sta sgretolando via i'm your source of self destruction sono la tua sorgente fonte di autodistruzione quindi si riferisce alla droga veins that pump with fear sucking darkest clear veins sono le l'avena vene veins che pompano con paura with fear sucking to suck vuol dire succhiare aspirare che che aspirano il più il più scuro chiarore leading on your death construction quindi guidando la tua costruzione della morte perché è una proiezione al futuro perché comunque la droga ti porta alla morte taste me you you will see assaggiami e tu vedrai more is all you need di più e di tutto di cui ha bisogno dedicated to dedicato a how am killing you come come ti sto uccidendo came crawling faster quindi crawling appunto abbiamo detto vuol dire strisciare andare a cartoni avanzare lentamente strisciare quindi vieni strisciando più velocemente obey your master obey vuol dire obbedire quindi obbedisci al tuo maestro your life burns faster la tua vita brucia velocemente più veloce obey your master quindi obbedisci al tuo maestro e master of ups maestro dei burattini i'm pulling your strings i'm pulling your strings i'm pulling your strings allora tu twist vuol dire attorcigliare avvolgere smash vuol dire fracassare pestare picchiare quindi attorcigliando la tua mente e sbattendo fracassando i tuoi sogni perché la droga appunto brucia il cervello blinded by me you can see a thing allora blind cieco quindi ha ciecato da me tu non puoi vedere niente non puoi vedere niente just call my name chiama il mio nome chiama solo il mio nome because i'll hear you scream perché ti sentirò io ti sentirò urlare ma master master maestro maestro neither work the way never you betray all the work e diciamo uscito quindi uscito alla maniera nel modo non ti tradisce mai betray a tradire life of death becoming clear la vita della morte diventa più chiara fa un gioco di parole però vuole far capire che appunto sei quando fai uso di sostanze sei soggetto alla manipolazione della mente perché la mente vede altre cose che alterano la realtà pain monopoly ritual misery monopoly è il monopolio quindi lo voglio del dolore ritual misery miseria riva miseria rituale chop your breakfast on a mirror tu ciò può dire tagliare e mozzare quindi mozza taglia la tua colazione su uno specchio quindi la droga quando viene tagliata e qua invece usa la diciamo la colazione però sarebbe la la droga che viene tagliata sullo specchio where are the dreams that i been after dove sono i sogni che io ho cercato you promised only lies hai promesso solo bugie laughter laughter risata risata all idea or see is laughter tutto ciò che che ascolto o vedo è risata laughing at my cries ridendo ai miei pianti fix me riparami hell is world all death natural habit habitat l'inferno vale work vuol dire valere che vale valore quindi valore l'inferno vale l'inferno vale tutto questo tutto questo abitato naturale just a rhyme without reason sono una rima senza una ragione never ending maze drifted on number days a maze è labirinto un'inferno vuol dire contare numerare quindi labirinto infinito never ending come never ending story una storia infinita questo labirinto infinito different number days deriva in giorni contati vedi deriva in giorni contati perché è come se avessi giorni contati per per il fatto che il corpo si stia sulle facendo appunto alla droga e alla alla morte now your life is out of season ora tua vita è fuori stagione i will occupy l'occuperò i occuperò i occuperò i will help die ti aiuterò a morire i will run through you ti attraverserò now i rule you too ora governo anche te quindi questa è come se la droga parlassi alla persona perché io ti ucciderò io ti occuperò io strapperò i tuoi sogni mozzerò i tuoi sogni e muoverò le tue le tue corde in modo che tu obbedirei a me quindi questo è il messaggio della droga che governa il tuo corpo come se un ente superiore ti possa manipolare il cervello quindi veramente una cosa brutta questo messaggio è da far passare a tutti quanti quindi questo serve appunto per imparare l'inglese per imparare appunto il significato di queste canzoni che hanno un messaggio importante importantissimo quindi quindi invito a riascoltarla con attenzione mettere un mi piace se vi è piaciuto il messaggio il video e scrivere il canale traduzione canzoni musica spiegata in modo che si possa continuare insieme il percorso di musica spiegazione musica e traduzioni canzoni in inglese e parlare anche di musica italiana della storia della musica italiana internazionale per capire il mondo per capire da dove veniamo dove siamo e dove andremo quindi con i metallica master of puppets è tutto alla prossima ciao grazie a tutti